Musica Il trend in discesa in Irpinia per quanto riguarda i contagi 5 in 4 giorni ma cresce il numero dei decessi giunti a quota 47 al rumo muore una donna di 74 anni di Santa Croce del Sannio che era stata ricoverata a Villa Margherita è la tredicesima vittima sannita dall'inizio dell'epidemia intanto Lauro e Ariano restano zone rosse fino al 20 aprile così come stabilito dal presidente De Luca La situazione esplosiva che si vive nelle carceri in conseguenza del covid l'unione delle camere penali italiane chiama in causa il governo occorre agire per sfoltire gli stabilimenti di pena Russo, l'avvocato russo alla TV dice pochi braccialetti elettronici per monitorare a domicilio i reclusi Musica Sospendere il pagamento della Tari in questo periodo di chiusura totale delle attività Vizzi Sguera, capogruppo del patto civico, polemizza con l'amministrazione cittadina beneventana chiamando in causa una sentenza della Cassazione la replica del vice sindaco di Benevento Pasquariello il governo intervenga perché noi da soli non possiamo interrompere la pressione fiscale Musica L'Accademia di Santa Sofia e le sue resistenze musicali e culturali al tempo del virus con Chopin, la bellezza e l'arte Corre lungo il web Musica Buonasera, buonasera dal nostro telegiornale partiamo con la situazione legata al covid in Irpina come si diceva nei titoli cresce e decresce il numero dei contagi ma purtroppo è in aumento quello delle vittime si giunge a quota 47 anche il dirigente medico del Moscati Carmine Sanseverino è il trentasettesimo operatore sanitario a restare infettato dal virus del covid sentiamo Se da una parte l'emergenza coronavirus in Irpina fa registrare un allenamento notevole dei contagi dall'altra non si firmano i decessi ancora uno si è consumato all'ospedale Frangipane di Ariano la vittima, quarantasettesima in Irpina per covid-19 e ventesima sul Tricol è un novantasettenne del posto Meglio invece va sul fronte dei nuovi casi l'ultimo aggiornamento dell'ASL parla di due soli nuovi pazienti affetti dal virus e scoperti su 152 test effettuati e analizzati dall'istituto zoprofilattico di Portice e dal laboratorio dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino uno di questi è il dottore Carmine Sanseverino residente nel capoluogo e dirigente medico nello stesso reparto di medicina d'urgenza della città ospedaliera dove è ricoverato dalla scorsa mattina in seguito all'esito positivo del tampone il dottore finora in prima linea per curare gli altri ammalati ha iniziato la terapia completa gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale monolaterale dopo diversi giorni di febbre con picchi e discese molto presente su facebook dopo aver per giorni parlato ai cittadini del virus dal suo osservatorio privilegiato adesso ha voluto tranquillizzare amici e parenti sulle sue condizioni di salute si tratta del 37esimo operatore sanitario ad essere stato infettato in provincia di Avellino l'altro caso nuovo riguarda un cittadino di Mercogliano da 20 giorni a casa in isolamento e ora ricoverato in ospedale l'Irpinia dunque giunge a quota 400 casi facendo registrare però anche 26 guariti intanto è atteso nelle prossime ore l'esito del tampone post mortem a cui è stata sottoposta una 96enne arianese che era in cura nel presidio ospedaliero locale dove attualmente sono ricoverate due persone in terapia intensiva una positiva e una in attesa di esito di tampone 42 persone in medicina di cui 40 positivi e 2 negativi mentre al Muscati di Avellino sono ricoverati 58 pazienti covid di cui 6 in terapia intensiva intanto sali a 13 il numero delle vittime nel Sannio anzi per quanto riguarda le persone originarie del Sannio l'ultima al rumo una donna di 74 anni originaria di Santa Croce del Sannio intanto intervenendo ad un forum di Libera il procuratore capo della Repubblica di Benevento Policastro dice avvieremo stiamo già avviando le indagini nella consapevolezza che però stiamo attraversando un'emergenza senza precedenti un nuovo decesso al Sampio di Benevento la conferma arriva dal tradizionale bollettino delle 18 pubblicato dall'ospedale beneventano e anche questa volta si tratta di una persona una 74enne residente nella provincia di Benevento precisamente a Santa Croce del Sannio la donna che si trovava in terapia intensiva era stata trasportata da Villa Margherita nelle scorse settimane e dopo giorni di lotto contro il virus è deceduta nella mattinata odierna è la tredicesima vittima sanita da Covid-19 la diciotissima al Sampio di Benevento dove ora sono 27 le persone della provincia ricoverate su un totale di 31 pazienti si tratta invece del sesto decesso di un paziente trasportato dalla clinica Focolaio e proprio su Villa Margherita sono in corso le indagini promosse dal pool di magistrati della Procura della Repubblica di Benevento coordinato dal dottor Policastro che intervenendo al forum di Libera ha espresso il convincimento che sulle cause che hanno prodotto la virulenza dell'epidemia presso Villa Margherita si debba indagare a fondo per individuare eventuali responsabilità è necessario andare fino in fondo e accerteremo fino in fondo che ci sono responsabilità tenendo conto che in una situazione emergenziale il comportamento e le condotte dei decisori professionali o amministrativi sono fortemente condizionali da contesto in cui si cavano quindi la necessità di con cautela andare a verificare le negligenze se ci sono state se sono state tali che potevano essere superate in quel momento attenzione bisogna comprendere se era esigibile un comportamento diverso cioè io ho a cuore le vittime ho a cuore i problemi prodotti agli operatori ma ho a cuore anche la professionalità delle persone che hanno dovuto decidere da momento all'altro che cosa fare senza linee guida senza conoscenza senza capacità e possibilità di comprendere quello che stava accadendo e poteva accadere Intanto Mariano Irpino e Lauro resteranno zone rosse fino al 20 di aprile lo ha stabilito il presidente della regione Campania De Luca Con l'aumento dei casi di contagio e purtroppo anche dei decessi saliti rispettivamente a 144 e 47 il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha prorogato fino al 20 aprile la zona rossa di Ariano Irpino Nella tarda serata di ieri la nuova ordinanza che allunga di una settimana la quarantena del Tricolle la decisione è stata presa anche sulla scorta di un report dell'asla di Avellino che ha confermato l'incremento dei casi anche per il cluster derivante dalla RSA del centro Minerva Confermate dunque le misure di divieto di allontanamento dal territorio comunale così come di accesso la sospensione delle attività degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione di servizi essenziali e di pubblica utilità naturalmente a questo dispositivo derogano gli operatori sanitari e sociosanitari il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relativi all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite mentre restano chiuse le strade secondarie anche l'Auro resta zona rossa per un'altra settimana il comune del Vallo e quello arianese sono i soli in Irpinia e insieme a Paolisi in Valle Caudina gli unici in Campania dato il mancato rinnovo dell'isolamento per quelli del Vallo di Diano il sindaco Antonio Bossone alla luce della proroga delle misure restrittive peraltro da lui richiesta in seguito al focolaio della Sammeria Castaldo per ora ristretto al titolare e ai suoi familiari ha voluto tranquillizzare la comunità invitando tutti a rispettare regole e divieti ha lanciato poi un appello alla regione per il recupero di Parco degli Olivi e del centro di protezione civile che potrebbero essere utili alla fase di ripresa e ha sottolineato la massima attenzione per le politiche sociali che a Lauro saranno tesi ad aiutare chi ne ha veramente bisogno se qualcuno crede che con il coronavirus sia venuto la Befana o il terremoto degli anni Ottanta se lo può dimenticare questo comune retto da me non sarà la Befana questo comune darà a chi ha bisogno alle attività che sono state chiuse e soprattutto darà a chi veramente rappresenta la parte bisognosa della nostra comunità intanto l'ASL di Benevento fa registrare 141 contagiati se si eccettua la donna morta nelle ore passate al rumbo in atto una notizia viene dalla Gepos dove i tamponi sono tutti negativi nessun positivo al Covid-19 tra i dipendenti testati alla Gepos di Telese Terme a comunicarlo è stato direttamente alla casa di cura Telestina dopo una notifica da parte dell'ASL che aveva effettuato i tamponi sul personale i cui test sierologici i cosiddetti test rapidi avevano dato esito dubbio i test erano stati eseguiti non appena la clinica aveva avuto la conferma del possibile trasferimento di pazienti Covid nella struttura avvenuto poi a metà della scorsa settimana non senza polemiche di altro tipo di polemiche di ben altro risultato invece sono i tamponi che si stanno effettuando sui contatti diretti di pazienti e personale di Villa Margherita e il risultato positivo è infatti un uomo di Montesarchio che aveva avuto contatti con un'infermiera del posto in servizio nel centro di riabilitazione Beneventano l'uomo che non manifesta sintomi preoccupanti è in isolamento già da inizio mese e ora sarà in cura con assistenza domiciliare con questo salgono a tre gli attuali positivi nel centro caudino tutti e tre legati ai due focolai sanniti il numero dei contagiati nel sannio che nel weekend ha subito un rallentamento arriva a 141 un dato che però non tiene conto dei decessi due nel weekend per un totale di 12 sanniti morti per Covid e dei guariti che sono quattro tra questi ci sono anche i due primi casi Covid della provincia ossia il 22enne di Guardia San Framondi e la 26enne di San Salvatore Teresino la notizia per entrambi è arrivata nel giorno di Pasqua ad oltre un mese dal primo tampone Nella giornata di oggi sono stati effettuati circa 12 tamponi ai contatti diretti dei pazienti positivi lo dice il sindaco di Paolisi Umberto Maietta domani inizieremo con i test sierologici per verificare la diffusione del virus e quindi agire per contenerla allo stesso tempo prosegue il sindaco si continueranno a fare i tamponi oltre ai contatti diretti con i positivi al coronavirus spingerò affinché lo facciano tutti coloro che sono in prima linea a partire dagli operatori sanitari al momento non registriamo particola di criticità conclude Maietta posso affermare che i paodisani si stanno comportando però molto bene e che la zona russa prosegue anche se ogni tanto bisogna affrontare degli imprevisti dice il sindaco di Paolisi intanto ad Avellino è stata una giornata di Pasqua e di Pasquetta all'insegna della intensificazione dei controlli 104 le multe elevate 2000 le persone identificate 1600 i negozi e si è fatto un largo uso anche dei droni che sono risultati insomma importanti necessari per il controllo complessivo della situazione misure anti-covid tra divieti rispettati e regole infrante dopo le festività pasquali continuano i controlli della polizia di stato ad Avellino in provincia questa mattina approfittando dei nuovi posti di blocco predisposti in piazza Libertà e in altre zone del capoluogo alcuni agenti della questura davanti a Palazzo Caracciolo hanno offerto una dimostrazione dell'efficacia operativa di un drone in volo di ultima generazione della direzione centrale anticrimine servizio controllo del territorio diretta da Vincenzo Nicolì un mezzo ormai utilizzato stabilmente anche da altre forze dell'ordine specie in questa fase in quanto permette verifiche più rapide con una zoomata di un chilometro e la capacità di poter selezionare obiettivi operativi sensibili rinviandone le posizioni alle volanti e alle pattuglie della prevenzione crimine in servizio sul territorio intanto la polizia attraverso il vicequestore Elio Iannuzzi fornisce anche i dati sui controlli effettuati tra sabato e lunedì in Irpinia giornate tradizionalmente di spostamenti per pranzi in famiglia e gite fu riporta opzioni però del tutto cancellate dai dispositivi di prevenzione del contagio da coronavirus che quindi hanno visto impegnati nel monitoraggio uomini e mezzi della polizia e non solo in particolare gli agenti hanno controllato quasi duemila persone e 1600 esercizi commerciali elevando 104 sanzioni un bilancio tutto sommato contenuto rispetto a molte altre province campane ed Italia e sono stati 250 invece i controlli effettuati a Benevento con l'uso anche qui dei drone intanto sono state elevate molte contravvenzioni in particolar modo nei confronti dei pedoni tradizioni stravolte gite fuori porta annullate cerimonie religiose rivisitate e città deserte è stato un weekend di Pasqua destinato a restare nella storia quello appena trascorso tra le mura domestiche a causa delle limitazioni imposte dal coronavirus ma non sono mancati furbetti e trasgressori a Benevento tra domenica e lunedì la polizia municipale ha inflitto ben 21 verbali in gran parte 16 nella giornata di Pasquetta molti di questi sono stati elevati a persone che passeggiavano a piedi senza un valido motivo controllate più volte dai caschi bianchi la pista ciclopedonale di Contrada San Vitale l'area dell'istituto agrario di Contrada Piano Cappelle via Pace Vecchia e l'area del ponte di Baldi in totale sono stati eseguiti oltre 250 controlli con i varchi della città presidiati continuamente i controlli continueranno sempre con maggiore incisività anche nei prossimi giorni ha sottolineato il capo della municipale Fioravante Bosco poiché tutti i cittadini devono rendersi conto che uscire di casa senza alcuna giustificazione è molto pericoloso per sé per le proprie famiglie e per tutte le persone con le quali si hanno contatti dobbiamo tirare avanti fino al 3 maggio lo dobbiamo fare perché è importante perché sennò vanifichiamo tutto e spero che la gente capisca che comprenda questo slogan io resto a casa per ancora 20 giorni e poi tireremo le somme sono fiducioso Benevento sta reagendo bene e dobbiamo continuare così controlli intensificati anche in provincia in Valle Caudino e Telesina presidiati i varchi di accesso di quelle località tradizionalmente deputate ad accogliere turisti e visitatori tutto sommato però sono state poche le persone sanzionate aeromobilità detta disposizioni precise per quanto riguarda i viaggiatori che utilizzano i bus si tratta di utilizzare obbligatoriamente le mascherine e tenere una distanza di sicurezza anche da seduti di circa un metro sentiamo il servizio Non più solo sanificazione dei mezzi è richiesta ai passeggeri di atteggiamenti consoni alle misure di distanziamento sociale imposti da decreti e ordinanze per i luoghi pubblici da oggi l'air mobilità recependo le ultime disposizioni del governatore De Luca in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 impone l'obbligo ai passeggeri di indossare le mascherine per accedere a bordo dei pullman dunque sarà necessaria l'adozione dei dispositivi di protezione individuale un accorgimento che va nella direzione di contenere il rischio di contagio restano valide poi le altre regole di viaggio l'acquisto dei ticket presso le rivendite a terra la salita e la discesa dei passeggeri limitata alla porta centrale a quella posteriore dell'autobus va mantenuta inoltre la distanza tra le persone di almeno un metro alle fermate e durante le fasi di salita o discesa dei mezzi mentre a bordo va mantenuta la stessa distanza di almeno un metro anche se si è seduti ed è vietato occupare i posti attivi alla cabina guida e alla porta anteriore una serie di comportamenti insomma volti ad evitare che si creino possibili focolai anche con l'utilizzo dei mezzi pubblici il problema del sovraffollamento delle carceri specialmente in questo periodo così insomma acuto della epidemia da coronavirus le camere penali italiane lo hanno insomma fatto presente al governo insieme a tutta un'altra serie di argomentazioni lo fa anche la camera penale di Benevento che insomma parla anche della penuria di braccialetti elettronici che rende tutto questo ancora più difficile il sovraffollamento delle carceri italiane in questo delicatissimo passaggio dell'epidemia da coronavirus si tratta di una questione atavica che di volta in volta ha impegnato governi va detto con scarsi risultati il più generale quadro della riforma della giustizia inevitabilmente passa attraverso un criterio che tenda ad alleggerire la presenza sovrabbondante di detenuti sia in attesa di giudizio che appena brevio da ultimare la camera penale di Benevento si è fatta all'attrice del messaggio che l'unione delle camere penali italiane ha rivolto al governo affinché consideri la improcrastinabilità di un provvedimento che eviti in presenza del virus il rischio di un escalation incontrollabile dei contagi che preluderebbe ad una deflagrazione della vita carceraria con grandissimo documento per i carcerati stessi ma anche per il personale di polizia penitenziaria che vive per molti aspetti lo stesso dramma umano con l'avvocato Lusso presidente della camera penale di Benevento abbiamo affrontato una parte del vasto problema in riferimento al braccialetto elettronico misura determinante per permettere lo smistamento domiciliare ma che è del tutto inefficace per numero di esemplari in circolazione sono anni che questi braccialetti di Italia non ci sono c'è una questione di un appalto doveva diventare essere collaudato ad ottobre 2018 per 12 mila dispositivi e la cosa non è stata fatta perché il ministero non ha nominato la commissione di collaudo ed allora il governo ha adottato un provvedimento sembra senza consapevolezza di quelle che sono difficoltà perché porre i tenuti e i ministeriali deve essere per essere efficaci una norma una norma immediata sottoporre a istanza queste condizioni significa che i tribunali di sorveglianza i magistrati di sorveglianza devono valutare queste situazioni e non lo fanno in questo periodo non lo fanno perché già vi era una carenza cronica prima oggi ovviamente questa è acuita dalle situazioni di emergenza che ci sono il tribunale di sorveglianza in Napoli si sta dotando in questi giorni anche con tutte le camere penali in collaborazione con tutte le camere penali della campagna di un protocollo per gestire le udienze in sicurezza l'intervista integrale all'avvocato russo andrea Nonda alle 20 e 30 dopo ovviamente il telegiornale intanto insorge la polemica a benedetto per quanto riguarda il pagamento della Tari che l'opposizione vorrebbe interrotto mentre invece l'amministrazione è di opinione contraria Pasquariello il vice sindaco dice bisogna che il governo intervenga perché noi non possiamo interrompere la pressione fiscale la sospensione del pagamento della Tari terreno di polemica tra amministrazione cittadina e patto civico vice Sguera attraverso un post apparso sulla sua bacheca Facebook replica al vice sindaco di Benevento Pasquariello che aveva espresso riserve circa la sentenza della Cassazione richiamata da Sguera che non fa riferimento al dato contingente ma si riferisce alla fattispecie legata alla eventualità che se i detentori degli immobili non producono rifiuti risulta essere inapplicabile il presupposto impositivo cioè il pagamento stesso della tassa Sguera tira in balo Confcommercio e addirittura Asia che a suo dire non sarebbero contrarie a priori a questa proposta la replica di Mario Pasquariello ha il sapore della distensione intervenendo all'App TV il vice sindaco argomenta le ragioni di fondo della mancata sospensione e lancia segnali di dialogo col gruppo di opposizione se dobbiamo sospendere o meglio tra virgolette Cassare in via definitiva per quei 3 o 4 mesi in cui l'esercizio commerciale è stato chiuso il tributo il governo ci deve ristorare di quei fondi perché è chiaro che quei fondi non sono diciamo così introitati così tanto per introitarli ma sappiamo bene che servono per la raccolta dei rifiuti che servono per tenere vita la città che servono per pagare gli stipendi agli addetti della società di igiene ambientale per cui noi non potremmo senza avere un introito da parte del governo sospendere quella tasse per 4 mesi non incamerare avremmo grosse difficoltà economiche Intervista integrale a Mario Pasquariello in onda alle ore 20 intanto è arrivata un nuovo bollettino da parte dell'azienda ospedaliera Sampio in merito ai tamponi si legge l'azienda ospedaliera Sampio ha processato in data odierna 26 tamponi dei quali due sono risultati positivi i due positivi non rappresentano però dice la nota nuovi casi ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertate inoltre sono stati processati 95 test rapidi di cui 9 con esito positivo intanto ad Avellino cresce la presenza di PM10 nell'aria e naturalmente la cosa è particolarmente strana visto che c'è una circolazione molto ridotta e anche il fatto di riscaldamenti ci avviamo verso la inoltrata primavera ma intanto c'è questo problema sentiamo il servizio Avellino un solo sforamento delle polveri sottili rispetto a quelli permessi dalla legge le ultime analisi dell'area sul capologo erpino da parte dei due rilevatori dell'ARPAC forniscono un dato per certi versi assolutamente sorprendente nonostante il traffico veicolare sia stato quasi azzerato dalle misure anti-covid e i riscaldamenti siano praticamente spendi da alcuni giorni visto il rialzo delle temperature l'apparecchio installato nell'ex scuola media Dante Alighieri di via Piave fa segnare ben 34 sforamenti di PM10 a solo uno da quelli consentiti in un anno di molto inferiore però è il numero di quelli segnati sul dispositivo del quinto circolo didattico di via Scandone fermo a quota 19 una differenza di ben 15 sforamenti che rappresenta un'altra anomalia nei risultati della misurazione dei valori in molti replicano continuando a dare la colpa dell'incremento delle polveri sottili ai rughi agricoli che seppure più sporadici restano una spina nel fianco in tutto il territorio cittadino e della vicina valle del sabato ma intanto la chiusura di scuole industrie la riduzione dei mezzi pubblici in circolazione e delle auto necessita di una riflessione seria per andare oltre i soliti steccati e studiare una soluzione al problema che evidentemente per il capologo irpino è quasi completamente legata alla sua natura morfologica la situazione di completo di lockdown naturalmente che stiamo vivendo danneggia le attività produttive danneggia anche i cantieri edili con l'ance che naturalmente reclama al governo misure necessarie e ottimali intanto il presidente della regione De Luca dice che si apriranno i cantieri dopo il 3 di maggio sentiamo come ha replicato il presidente di Ance Sannio Mario Ferraro la situazione legata al mondo dei costruttori edili dopo la decisione del presidente della regione Campania De Luca di autorizzare l'apertura dei cantieri dopo il 3 di maggio quando si è autorizzati a ritenere che anche altre attività possano vedere una lenta ripresa seppur all'interno dei crismi di più assoluta sicurezza Ance Campania e Regione hanno da tempo istituito una unità di crisi per seguire passo dopo passo il decorso che alla ripresa vedrà le imprese edili alle prese con una difficilissima fase di rilancio collegato con noi il presidente di Ance Benevento Mario Ferraro traccia il quadro non certo semplice della situazione anche dal punto di vista dei pagamenti alle imprese noi abbiamo con la regione Campania istituito un'unità di crisi nel rispetto delle normative di sicurezza dei lavoratori e l'Ance sta facendo un ottimo lavoro insieme a tutti e cinque i presidenti della regione Campania insieme a Dance Campania per capire le modalità per riprendere i cantieri perché il problema che riguarda il settore dell'edilizia che già era una forte crisi circa il 95% delle imprese sono ferme solo alcune imprese che lavorano su determinati settori essenziali sono aperte ma comunque il nostro settore già era in crisi adesso è doppiamente in questa fase molto delicata che poi riguarda un po' la maggior parte delle aziende industriali oltre quelli da edilizia intervista integrale a Mario Ferraro presidente dell'Ance alle ore 21 intanto il clima di oppressione e di depressione per molti aspetti da coronavirus si combatte anche con la cultura come fa l'Accademia di Santa Sofia e naturalmente la propria interpretazione di Chopin Cristiano Burato pianista concertista di grande fama internazionale già ammirato a Benevento nella precedente stagione per la sua esecuzione integrale dei notturni di Chopin ha aperto sabato scorso la serie di esibizioni domestiche Resistenze musicali Accademia in streaming iniziativa divulgativa musicale e culturale trasmessa in streaming sulla pagina Facebook dell'Accademia di Santa Sofia e pensata appositamente per il web dalla direttrice artistica Marcella Parziale la musica non si ferma e al tempo del coronavirus anche restando a casa rimane quella inesauribile fonte di sostegno psicologico formativo e terapeutico così l'Accademia di Santa Sofia reagisce al periodo di emergenza isolamento causati dal coronavirus con una programmazione settimanale di concerti che arriverà fino a metà maggio tutta sul web ma caratterizzata dalla sua consueta sensibilità ed eleganza nella scelta dei contenuti e degli interpreti e con il rigore che da sempre ne caratterizza ogni progetto tenacemente finalizzato alla diffusione capillare e radicale della cultura musicale la musica ci suggerisce strade di valutazione differenti sulle cose della vita ci avvicina alla contemplazione della bellezza della natura ci aiuta a riflettere sul senso delle cose e degli eventi e questi tempi sospesi dal virus forse possono suggerirci delle nuove risposte saperle cogliere non è per nulla scontato ed è qui che la cultura ha un ruolo fondamentale perché modella le nostre intelligenze verso attitudini bellissime come l'empatia spesso veicolata dalle suggestioni che solo la musica può dare sapere vedere anche il lato positivo a volte delle situazioni più negative certo e poi la malinconia sa essere anche dolce questo ce lo farai ascoltare tu ancora più bella dalla speranza che poi si apre è ancora più più intima più profonda di relazionare la cultura esatto in chiusura ripetiamo gli orari degli speciali di lab l'intervista al vice sindaco di Benevento Pasquariello alle 20 quella all'avvocato russo presidente della camera penale di Benevento alle 20 e a presidente del lance Sannio Mario Ferraro alle ore 21 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale ma non resta altro che auguriare a tutti la più cordiale buonasera il meteo è presentato da è giusto restare a casa sono le regole e ora anche se sei giovane è il momento di rispettarle per il bene di tutti ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro sembrerà quasi di toccarci anche se solo virtualmente anche noi che ci alleniamo sempre per superare i limiti adesso dobbiamo rispettarli insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita insieme possiamo essere uniti anche se distanti che è un'esercizio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.